Buongiorno, buongiorno ragazzi. Eccoci ad una lezione di storia sul Medioevo, come sicuramente avrete visto dal titolo del video, ed in particolar modo un aspetto del Medioevo a mio parere fondamentale, ossia la mentalità medievale, della quale inevitabilmente dobbiamo tenere conto nello studio di questo periodo socioculturale, periodo storico ovviamente, in quanto se ci pensiamo è proprio la mentalità, e questo discorso non è ovviamente valido solo per il Medioevo, è la mentalità che è in grado di plasmare la società e la cultura, andando poi a creare inevitabilmente un rapporto di interdipendenza fra queste componenti, mentalità, società e poi ovviamente la cultura. Iniziamo col dire che quella di Medioevo è una definizione a posteriori, nel senso che questo termine fu coniato nel Rinascimento, la cosiddetta mediaetas, nel senso che i Rinascimentali andavano a vedere in questo lunghissimo periodo storico una accezione assolutamente negativa, nel senso che per i Rinascimentali questo periodo era andato ad interrompere, aveva posto fine alla classicità greco-romana, esattamente quella classicità che gli uomini del Rinascimento volevano far rinascere, appunto per questo chiamiamo questo straordinario periodo storico il Rinascimento, ma ci accorgeremo che il Medioevo per dinamiche diverse, per ingerenze diverse, non sarà assolutamente da meno. Possiamo però comprendere la mentalità rinascimentale che vedeva i proverbiali secoli bui a contraddistinguere tutto questo periodo, andando appunto a vedere nel Medioevo un'epoca di superstizione, di razionalità, di povertà, di bruttezza, di oscurantismo, di invasioni, di guerre e di un sistema tutto sommato che aveva portato le menti e la società ad essere profondamente chiusa. Quello che gli uomini medievali avevano chiuso, avevano protetto, avevano oscurato, gli uomini del Rinascimento vorranno invece aprirlo ed illuminarlo, gettando la loro ottica, la loro volontà di recupero appunto a quello che è stato uno dei periodi della storia antica e non solo più straordinari dello sviluppo della civiltà, ossia appunto l'epoca greco-romana. Per quello che concerne una datazione di questo lunghissimo periodo storico, gli storici hanno fornito delle date che variano a seconda della corrente storica. Io vi sottoporrei quella più accettata e anche quella logicamente, intuitivamente preferibile, ossia quella che vede l'inizio del Medioevo, sapete benissimo voi comunque che l'inizio è la fine di un periodo storico, soprattutto se così lungo i confini sono sempre molto fumosi, sono sempre dei passaggi più che delle interruzioni e dei tagli netti. E con il Medioevo, come termine di inizio indicativo, proponiamo sicuramente la fine dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C. e la fine che va a coincidere dopo quasi mille anni con la scoperta dell'America da parte di Colombo nel 1492. Quindi un arco di tempo estremamente lungo. Ed è logico intuire che non possono essere stati mille anni di buio, di chiusura, di pregiudizio, di oscurantismo e di paura, in quanto la definizione rinascimentale va presa sostanzialmente con le pinze. Gli storici poi hanno enormemente, la storiografia successiva ha enormemente rimodellato questa prospettiva. Un'altra datazione che posso proporvi è quella che va dal 410 d.C., il sacco di Roma, fino alla presa di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453. Ci accorgiamo che tra le due datazioni, tra le due tipologie di datazioni, ballano una decina di anni tra una e l'altra, sia all'inizio, sia per quello che concerne l'inizio, sia per quello che concerne la fine. E in un periodo così lungo non è di certo quello che va a destrutturare la concettualità legata a questo momento storico. È chiaro che io tenderei a propendere per la scoperta dell'America, come termine di datazione, proprio per una questione di mentalità, una mentalità che si apre. L'Europa, l'Asia e l'Africa, l'Africa del Nord, non sono più le uniche terre conosciute, ma si è scoperto e si è poi iniziato a scoprire, nel periodo straordinario delle scoperte geografiche, un nuovo mondo, un nuovo continente. E a questa apertura geografica spaziale corrisponde inevitabilmente un'apertura della mentalità. E questo gli uomini dell'umanesimo e del rinascimento lo avevano percepito e per certi casi addirittura anticipato. Vi dicevo appunto la presa con le pinze della definizione dei secoli bui, in quanto il Medioevo fu un'epoca di grandissime innovazioni. Innanzitutto si iniziano a formare, si consolidano in alcuni casi, le lingue e le letterature europee. Processo questo figlio chiaramente della nascita degli stati nazionali che, costituendosi come unità politiche, amministrative, territoriali, autonome, hanno avuto la necessità di uno sviluppo di una lingua propria e poi di una letteratura propria, quando il manto dell'impero romano, che copriva tutto il continente da ovest ad est, si è frantumato, lasciando delle isole e dei territori che hanno potuto costituirsi e sviluppare una loro lingua, una loro letteratura di derivazione latina per la maggior parte, ma che comunque puntava staccarsi dal latino stesso. Quindi ricordiamoci proprio bene la formazione dei primi regni nazionali e, per la prospettiva linguistica, non dobbiamo assolutamente dimenticare che il Medioevo, in questa accezione di datazione, è l'epoca di Dante, di Petrarca e Boccaccio. Le nostre tre corone, che nonostante una mancata unità politico-territoriale dell'Italia, hanno posto le basi di un sistema linguistico letterario, che è stato il modello incondizionato fino alla fine dell'Ottocento e mi spingo a dire non solo. Dal punto di vista economico anche le innovazioni non mancarono, in quanto il Medioevo è un'epoca che vede la nascita di una nuova classe sociale, di una nuova forza economica, ossia quella dei borghesi e della borghesia. La borghesia imprenditoriale, la borghesia che lavora, la borghesia che guadagna, che investe, che accumula grandi somme di denaro, le sposta e in base a questo spostamento di denaro, a questi investimenti, nasce ovviamente una primaria forma di capitalismo e questa potenza economica, ditemi voi, se non è stata in grado di spostare le dinamiche sociali e di incidere in maniera preponderante sulla mentalità che è l'oggetto quest'oggi delle nostre riflessioni. Gli edifici di riferimento del mondo medievale che sono il castello e la cattedrale o il monastero, questi due grandi edifici, sono figli di una dimensione economica. La costruzione di un castello, la costruzione di una cattedrale porta lavoro, richiede lavoro. Sulla piazza antistante la cattedrale si svolgeva il mercato cittadino e il castello era parimenti un centro economico di primo livello, quindi iniziamo a fissare questi due edifici la cui simbologia ci porta, a mio parere, molto avanti nella conoscenza e nella interpretazione della vita medievale. Cattedrali o monasteri e castelli, le sedi, poi in fin dei conti, dei due poteri, il potere o l'influenza religiosa per chiaramente la cattedrale e il monastero e il potere politico, amministrativo, economico e di gestione della tassazione per quello che concerne il castello del dominus del signore, da cui dipenderà poi interamente il sistema feudale con i nostri vassalli, con i nostri valvassori e i nostri valvassini. Questa gerarchia, questa piramide sociale del potere che si estende su tutto il contado e tutto il territorio controllato appunto proprio dal castello. Aiutiamoci ancora un momento dal punto di vista della periodizzazione, nel senso che la gestione di mille anni di medioevo mi rendo conto che possa essere complessa e chiaramente in un periodo così lungo le istanze culturali e le mentalità, pur avendo una direttrice comune, si sono in parte evolute e trasformate. E gli storici da questo punto di vista separano un alto medioevo, un medioevo antico, un medioevo lontano e un basso medioevo, un medioevo a noi più vicino quindi. E lo spartiacque a livello di datazione per questa interpretazione è l'anno 1000, il famigerato anno 1000 in cui la popolazione europea credeva che ci sarebbe stata e si sarebbe verificata la fine del mondo. Quindi localizziamo un alto medioevo che va dalla fine dell'impero romano d'occidente nel 476 d.C. fino all'anno 1000. Dopo il 1000, fino per 500 anni, dopo la scoperta dell'America, fino, scusate, alla scoperta dell'America, per 500 anni abbiamo il basso medioevo, un medioevo più moderno e appunto più vicino. Entrando più specificatamente nella prospettiva della mentalità, dobbiamo dire che il mondo medievale, il mondo feudale, è dominato dalla figura del cavaliere. Il cavaliere che può essere sia un cavaliere errante, quindi una componente di immagine cavalleresca più negativa, un cavaliere senza terra, un cavaliere uscito dalla linea di successione dinastica o comunque uscito dai favori del signore e del dominus, il secondo, il terzo, il quarto genito in linea appunto ereditaria, che è costretto a vagare, errare appunto fra le terre, compiendo anche soprusi, scorribande e atti ingiuriosi nei confronti della popolazione, nel suo tentativo di ricerca di un dominus del quale mettersi al servizio. Non poche furono le problematiche che questi cavalieri arranti crearono nel contado, tant'è che la Chiesa addirittura fu obbligata ad intervenire con degli editti, con delle ingiunzioni, le cosiddette tregue, le cosiddette paci di Dio, che tentarono, spesso non riuscendoci, riuscendoci di arginare questa violenza perpetrata da queste figure. Purtroppo l'esito non fu straordinario da questo punto di vista, ma lo fu dal punto di vista della creazione, sempre a livello di mentalità, dell'altra figura di cavaliere, ossia colui che rappresentava l'ideale cavalleresco per eccellenza, una figura dedita alla protezione, al servizio, un uomo ricco di valori, di ideali, che prestava appunto il suo servizio nei confronti del dominus, nei confronti della fede religiosa e nei confronti della fede intesa come servizio alla Chiesa, anche dal punto di vista pratico, che si dimostra nel suo coraggio, nella sua dignità, nella sua onestà, nel proteggere i deboli e ricordiamoci ovviamente che il Medioevo è l'epoca delle crociate, in cui i crociati, forse i cavalieri, i soldati più famosi del mondo medievale, erano incaricati di proteggere i pellegrini nelle strade, nei lunghi tratti che portavano alla Terra Santa. Quindi il cavaliere, è questa la figura del cavaliere, che poi passa all'epica medievale. Il protagonista dell'epica medievale, e citiamo su tutti il testo forse più celebre, più famoso del Medioevo a livello di epica, che è la Chanson de Roland, ossia il testo che delinea con la figura del paladino Orlando l'archetipo del cavaliere, rispondente a tutte queste caratteristiche di cui abbiamo appena discusso. Quindi, figura di devozione, di servizio, di coraggio e di lealtà. Una particolare tipo di devozione, per quello che concerne il cavaliere, spetta alla donna, una devozione verso la figura femminile, anche ella idealizzata come uno strumento di purificazione, ma di purificazione spirituale, destinataria di un amore della coscienza, un amore della fede, un amore puro, casto, che permette a chi loda di, appunto, elevarsi e purificarsi spiritualmente. Attenzione, ragazzi, perché questa è la concettualità che plasma la figura femminile nella poesia medievale e arriva fino ai nostri stilnovisti, fin poi a toccare, ovviamente, le tre corone che vi ho citato precedentemente. La Beatrice di Dante risponde a questa ideologia, la Laura di Petrarca risponde a una medesima ideologia di idealizzazione, appunto, di elevazione. Questi tratti rientrano nel concetto dell'amor cortese, un amore delle corti, un amore letterario, ovviamente, che grazie alla letteratura cortese si è sviluppato in un ambiente nobile, alto, elevato, aristocratico, come quello della corte, che è la corte di palazzo, la corte del castello, che è uno degli elementi fondamentali con cui concepire la vita e la mentalità medievale. Opposta questa vita cortese alla vita villana, alla vita della villa, alla vita della fattoria, la vita popolare, contadina, bassa, in termini aristocratici, ovviamente, una vita villana più semplice, legata al lavoro, all'allevamento e a tutte le pratiche del contado rurale. Uno dei tratti che, a mio parere, dobbiamo tener presente è una sorta di lente, una sorta di lente di ingrandimento con cui guardare il mondo medievale, a mio parere è assolutamente il sentimento della paura, la percezione della paura. Questo status per l'uomo medievale di costante tensione, di costante, appunto, paura. Stiamo parlando, appunto, di un'epoca di guerre, di invasioni, di pestilenze, di carestie, di malattie, di elementi che tenevano l'uomo medievale, ribadiamolo ancora una volta, in una costante percezione di paura. Le violenze del cavaliere errante, le violenze delle invasioni, rientrano assolutamente in questo concetto. Tutte tipologie di paure che portano alla macro-paura, sostanzialmente, della morte e della fine del mondo, con la concettualità dell'anno 1000 che abbiamo visto precedentemente. È quindi chiaro che uno status mentale di questo tipo, uno status sociale di questo tipo, porta inevitabilmente a concepire una società chiusa in moltissimi delle sue componenti, in moltissime delle sue dinamiche. La corte è chiusa, il castello è chiuso, il monastero è chiuso, la cattedrale è chiusa, la corte ha un sistema economico-amministrativo tutto sommato chiuso, anche se è larga l'influenza della corte, si localizza in piccole isole a sistemi comunque chiusi. Ed è questo che anche i rinascimentali sicuramente percepirono, legato alla chiusura. La paura della morte, che poteva arrivare in ogni frangente, la vita dell'uomo medievale era una vita di una fragilità, di una pericolosità assolutamente incredibile, è legata poi anche alla punizione divina, a una punizione che avverrà dopo, in un regno ultraterreno, poi vedremo quale o quali, per delle azioni, per dei comportamenti che sono stati compiuti in vita. Quindi ha delle paure effettivamente presenti, si assommano delle paure per quello che sarebbe avvenuto dopo, è per questo che paura per me è un metro fondamentale con cui concepire la mentalità medievale. Punizione divina che avrebbe dovuto avvenire addirittura con la fine del mondo, e il giudizio universale e il precipitare dei peccatori chiaramente nell'inferno, questo regno ultraterreno assolutamente di dannazione, che era nelle mentalità ma poi compare a livello di attestazione scrittoria e figurativa solo nel X secolo. Questa profezia molto famosa nel Medioevo, mille non più mille, non più nulla dopo l'anno 1000, ma anche la dimensione legata all'anno 1000 va rivisitata, nel senso che c'erano ogni nucleo, ogni nazione, tra virgolette, in corso di formazione, aveva dei calendari diversi, quindi l'anno 1000 non corrispondeva, aveva delle date diverse per ogni singola comunità o area. Quindi dobbiamo concepire l'anno 1000 null'altro che come una delle tante paure che attanagliavano e assediavano continuamente l'uomo medievale. Uomo medievale che in questo contesto di paura aveva della realtà e della società una concezione dualistica, ossia una concezione che prevedeva solo due antipodi, Dio e Satana sostanzialmente, il bene ed il male. Dio, il paradiso, la beatitudine, l'altezza e la purificazione, Satana, il basso, l'inferno, la dannazione e lo scontare per l'eternità una sofferenza. Quindi appunto, ripetiamo il concetto di visione assolutamente dualistica della realtà, realtà nella quale queste due forze, il bene e il male, erano in una perpetua lotta continua. Lasciavano delle tracce, lasciavano dei simboli, lasciavano dei concetti, lasciavano delle idee, lasciavano meglio, scusate, un'atmosfera che l'uomo medievale tentava relativamente ai propri mezzi, poi li vedremo appunto, di percepire. Il bene per un uomo medievale rappresentava la fede cristiana, non dimentichiamo che il cristianesimo a livello religioso accomuna e si stende su tutto il territorio dell'impero romano, nonostante permanessero ancora dei culti pagani, soprattutto nelle campagne che la Chiesa tenterà il più possibile di sradicare, mentre il male concettualmente appartiene all'inferno, appartiene a Satana, appartiene alla costante presenza del diavolo, che questa entità malefica, ingannatrice, che poteva assumere tantissime forme e proverbialmente, scusate se banalizzo, ma per l'uomo medievale, il diavolo poteva trovarsi ad ogni angolo di strada. Il diavolo, Satana appunto, che era lui con le sue azioni di ribellione verso il bene e verso Dio, aveva creato l'inferno, l'inferno appunto che compare, come vi dicevo, nel X secolo e già era concepito come un sistema penale, come un baratro, una prigione nella quale tutti i peccatori, a seconda del peccato che avevano commesso in vita, erano organizzati. Noi beneficiamo di uno dei più grandi poeti mai apparsi nella storia del genere umano come Dante Alighieri e basta pensare alla sua strutturazione dell'inferno per apprendere e comprendere perfettamente questa concettualità appunto di sistema penale. elemento questo, Dio e Satana, Paradiso e Inferno, abbiamo innanzitutto una bipartizione del regno ultraterreno. Con l'arrivo e la comparsa e l'invenzione addirittura del purgatorio assisteremo a una tripartizione, il purgatorio, questo regno di mezzo nel quale è possibile ancora, grazie alle preghiere dei viventi per i loro cari, non precipitare nella dannazione eterna. Il purgatorio come ultima chance, se vogliamo banalizzare, per alcune anime, per potersi appunto purificare e compiere un cammino di redenzione ed accedere poi al Paradiso. Attenzione, una bipartizione dell'aldilà, una tripartizione dell'aldilà cristiano, elemento, ragazzi, se ci pensiamo, assolutamente nuovo rispetto alla dimensione greco-romana in cui avevamo un unicum, un unico regno ultraterreno. Quindi guardate come già questo cambia. E i greci e i romani, percependola al di là come unico, avevano, è inevitabile, un certo tipo di mentalità, non avevano chance, non avevano, come dire, possibilità in questo senso. L'uomo medievale, l'uomo cristiano invece ha prospettate e prima due e poi tre vie da percorrere. E l'accesso, dopo la morte ovviamente, e l'accesso a una di queste è regolato in base alle sue azioni in vita. Queste due realtà, Dio e Satana, Paradiso e Inferno, alto e basso, sostanzialmente, alto denotato da tutta la concettualità positiva che abbiamo visto, e un basso denotato da tutta una concettualità negativa e peccaminosa, sono tenute insieme da che cosa, ragazzi? Da dei simboli, dall'interpretazione delle sacre scritture, dall'interpretazione di un'immagine, dall'interpretazione di una scultura, dall'interpretazione, poi alla fine sostanzialmente, di immagini, perché l'analfabetismo assolutamente diffuso in questi secoli faceva in modo che l'uomo medievale si dovesse affidare a qualcuno per interpretare la realtà, soprattutto una realtà fondamentalmente irrazionale. E quindi da qui abbiamo necessariamente quello che vi dicevo precedentemente, Medioevo come epoca della religione. Mi rendo conto che sia un concetto, non concepite uno come banale, perché poi chiaramente questi aspetti verranno approfonditi, ma è la religione incaricata di rendere l'uomo medievale consapevole di questo collegamento fra cielo e terra. Ecco, proprio perché abbiamo messo in tavola tutta una serie di argomenti abbastanza complessi, io farei una pausa, dopo la quale ci collegheremo con un'attività pratica di percezione da parte dell'uomo medievale dell'irrazionale, ossia parleremo del Medioevo e dell'uomo medievale come uomo che crede nei santi, crede nei miracoli, venera delle reliquie, quindi degli elementi, degli aspetti religiosi che appunto hanno lo scopo nella mentalità medievale, ricordiamolo sempre ragazzi, di tenere in connessione questi due mondi, questi due regni. Un regno dell'uomo terrestre, basso, peccaminoso, nel quale si può solo, tra virgolette, tentare di elevarsi e purificarsi per accedere post mortem al regno alto, paradisiaco, angelico, il regno del bene, e questo ragazzi per l'eternità nella mentalità medievale. Va bene, ci ritroviamo tra qualche minuto e così riusciamo ad agganciarci al discorso che vi ho appena detto. Una breve pausa ragazzi. Rieccoci, rieccoci ragazzi dopo la pausa. Avevamo terminato qualche istante fa analizzando questa concettualità dualistica di alto e basso che domina la mentalità medievale e ricordiamoci, agganciamoci velocissimamente agli ultimi concetti, che quando parliamo di alto nel Medioevo dobbiamo pensare a un paradiso, dobbiamo pensare alla beatitudine, alla vita ultraterrena, a tutta quella concettualità di valori religiosi che se l'uomo ha tenuto una condotta corretta durante tutto il percorso della vita lo aspettano. Vuol dire rinunce, vuol dire sacrificio, vuol dire preghiera, vuol dire castità, vuol dire tendenza all'ascesi, alla predilezione di una vita spirituale che lo porterà verso l'alto. Mentre tutta la concettualità del basso è a livello medievale profondamente negativa. Il basso è il regno della terra, dell'uomo, del peccato, del diavolo, della donna, della donna che seduce, della donna che usa il corpo. Poi il basso è il regno del corpo, mentre l'alto è il regno dello spirito. Bisogna sganciarsi dai beni materiali, dal riso, dalla bellezza, nel senso che la bellezza è esteriorità, la bellezza inganna. Per ascendere, per compiere un ascesi, bisogna ovviamente liberarsi da tutto quello che grava, da tutto quello che pesa, da tutto quello che tira verso il basso. Vi parlavo prima proprio di questa connessione fra queste due percezioni, fra queste due entità dell'alto e del basso. Ci sono degli elementi nella mentalità medievale che tengono in un certo qual modo unite queste due realtà. Infatti, una prima tendenza che analizziamo nella mentalità dell'uomo medievale è quella proprio di credere nei miracoli. Anche in questo caso la religione e la sua etimologia di rilegare, di tenere insieme, di tenere unito, non si smentisce mai, nel senso che la percezione del miracolo era avvertita in una comunità, in una dimensione comunitaria che legava e teneva uniti i fedeli. Ma anche in questo caso questa credenza nel miracolo, percezione, per meglio dire, del miracolo, nasce da un bisogno, da una necessità di sopportare una realtà che abbiamo visto qualche minuto fa essere enormemente pesante, enormemente difficile, anche, spesso e volentieri, negli aspetti più comuni, negli aspetti più quotidiani, negli aspetti apparentemente meno difficili della vita. Ma nella vita medievale questo lo era. Lo scopo del miracolo sostanzialmente è quello di esorcizzare questa paura, nel senso che la mente doveva tendere a un miracolo, le sofferenze, il duro pellegrinaggio della vita aveva come tappa di, come dire, redenzione, come tappa che dava energia positiva, una percezione positiva, proprio quella del miracolo. Allo stesso modo, collegato al miracolo, è la percezione del santo medievale che era in grado di compiere questi miracoli. Al santo, infatti, si chiedeva un miracolo ed è una dimensione che permane ancora tutt'oggi, proprio per dirvi quanto la mentalità, che apparentemente è un termine assolutamente astratto, crea degli effetti concreti impattanti e potentissimi. E l'impatto plasma, di nuovo, società e cultura. Santi che erano creduti intermediari, appunto, fra la terra e il cielo. Erano delle figure elette con cui la gente poteva avere un contatto, magari lo aveva avuto questo contatto, e che fungevano da intermediari fra la terra ed il cielo. Attenzione ragazzi, ci tengo tantissimo, perché la concettualità, la dinamica che porta il fedele al rapporto col santo è importante da comprendere, nel senso che il santo era percepito sì come un qualche cosa di miracolistico, di alto, di elevato e di spirituale, ma era un qualche cosa con cui il fedele poteva avere un contatto, cosa che non avveniva assolutamente con la Vergine, con Dio, con le più alte cariche, tra virgolette ovviamente, del paradiso. La Vergine e Dio erano troppo per un uomo medievale, per un contadino analfabeta medievale, ma il santo era qualcosa che lui poteva fisicamente concepire e collocare, ed in base a quello assolutamente regolarsi. Teniamo conto del fatto che la strutturazione dei santi risponde sostanzialmente a un altro bisogno ben preciso, nel senso che voi sapete che la religione cristiana si è insediata, si è sovrapposta a territori in cui da secoli erano in vigore i culti pagani, i culti politeisti. ovviamente condannati dalla Chiesa, ma nei momenti di assestamento, stiamo parlando del fenomeno, ricordiamolo, del sincretismo religioso, i culti nuovi che arrivavano, in questo caso quelli cristiani, si dovevano insediare su un territorio, particolarmente quello rurale, che era abituato a un'altra tipologia di pratica religiosa. E quindi il cristianesimo non ha potuto, soprattutto nelle origini, non ha potuto spazzare via tutto quello che c'era. Ha dovuto, in un certo qual modo, innestarsi sopra, ha dovuto accogliere quegli elementi che assolutamente non gli appartenevano. Pensiamo semplicemente al contrasto insanabile a livello teorico di, a livello pratico, scusatemi anche, al contatto insanabile, conciliazione insanabile tra politeismo greco-romano-pagano e monoteismo cristiano. Il cristianesimo, quindi, era talmente forte, quel mondo a lui estraneo, che ha dovuto accoglierlo, rimodellarlo, reinterpretarlo per poterlo accettare. Perché era un bagaglio enorme, troppo grosso per essere sconfitto semplicemente, tra virgolette, tagliandogli la testa. È un processo questo, tipico delle culture, tipico degli insediamenti, ma proprio tipico delle dinamiche socioculturali dell'evoluzione e del progresso, sostanzialmente, dell'avanzamento delle epoche storiche. Tra romani e greci succede lo stesso discorso, tra cristiani e un mondo pagano accade esattamente la stessa cosa. Le feste che noi oggi abbiamo, carnevale, natale, capodanno, la notte di ogni santi con la concettualità tutta legata alla festa di Halloween, vengono fuori da questi processi, sostanzialmente, di, ricordiamolo ancora una volta, sincretismo religioso. Molto banalmente, perché, molto banalmente, ma in realtà no, perché un uomo medievale come Dante, scrivendo un poema religioso, un poema cristiano, come la commedia, sceglie come guida Virgilio e altre figure disseminate nella sua opera che non gli fanno da guida, ma che comunque ci sono, perché Virgilio? Perché un poeta pagano che credeva, ovviamente, nel politeismo, Marte, Giove, Plutone, eccetera, eccetera? Perché la mentalità medievale aveva visto in Virgilio un elemento che poteva essere accolto, perché in uno dei suoi testi, adesso non approfondiamo perché il discorso ci porterebbe fuori rotta, ma in uno dei testi di Virgilio, Virgilio aveva trattato, aveva parlato, aveva citato e profetizzato la nascita di un bambino che avrebbe salvato il mondo, avrebbe redento il mondo. Questa mentalità, la mentalità medievale, ha portato ad accogliere Virgilio come uno dei prefiguratori della nascita di Cristo, da qui il suo accoglimento in un sistema religioso monoteista che nel quale a ragione di essere, a ragione di logica, non ci dovrebbe essere, ma la mentalità, la mentalità medievale è una mentalità di reinterpretare, è una mentalità di modellare anche un qualcosa di apparentemente estraneo, farlo proprio e proporlo, proprio perché chiaramente la grandezza e la totalità della fede cristiana deve passare il messaggio al fedele che può anche quello, anche ciò che è pagano è comunque sotto il controllo della divinità cristiana, dell'unica divinità di questo sistema. E quindi il fatto che come in Grecia, come a Roma, ci fosse un dio deputato a un settore fuoco, aria, vento, terra e moltissimi aspetti della vita quotidiana, così i santi, io credo di fornirvi un'interpretazione che è quanto meno razionale, tentano di rispondere, tendono, come si dire, l'orecchio a questa meccanica. Infatti noi abbiamo dei santi che hanno una, come dire, specifica occupazione, hanno un settore in cui sono localizzati e che gestiscono quel determinato settore e quindi il fedele ha, il fedele medievale, ha nel santo una prospettiva per poter accedere a qualcosa di superiore ma è una prospettiva a lui vicina che può in un certo qual modo toccare e quindi sul tema del toccare noi colleghiamo il santo al culto per eccellenza del medioevo ossia al culto della reliquia quindi un culto di oggetti di dimensioni sostanzialmente fisiche che io posso vedere posso toccare io fedele medievale uomo medievale posso vedere posso toccare di reliquie parliamo di indumenti che sono appartenuti al santo oggetti ossa crocifissi c'è sempre questo concetto nella reliquia di una materialità che rappresenta dal punto di vista fisico qualche cosa di spirituale e con il solo toccarlo con il solo vederlo scatta nella mentalità medievale del fedele una concettualità però di spiritualità è astratta e questa è la funzione del culto delle reliquie ragazzi l'uomo medievale analfabeta l'analfabetismo era ai massimi quasi la totalità della 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 popolazione del del popolo medievale che non aveva avuto accesso ovviamente per questioni di necessità alla prospettiva culturale aveva bisogno di vedere aveva bisogno di toccare per poter credere compiere delle azioni fisicamente concrete vedere per poter credere se l'uomo medievale non avesse visto non avesse toccato non credo che avrebbe potuto credere quindi è questo sostanzialmente il rapporto che lega santo miracoli e culto fondamentale delle delle rieliquie con il santo spesso locale ribadiamolo il fedele aveva un rapporto fisico lo doveva vedere lo poteva toccare io ricorderò sempre con piacere le lezioni di storia medievale all'università in cui la professoressa ci spiegava proprio che il santo doveva essere tenuto addosso ci doveva essere appunto un santino un'immagine in alcuni casi c'era un ostia un elemento da mangiare per poter ingerire il santo avere la sua spiritualità all'interno e sono dinamiche che permangono ancora oggi con i nostri simboli religiosi portare un crocifisso portare un santino portare non necessariamente questo è un meccanismo legato alla mono monograficamente alla religione cristiana ma tutte le religioni in un qualche modo hanno bisogno di avere dei simboli degli elementi delle immagini di riferimento da tenere addosso per un senso di spiritualità magari per un senso di tranquillità ora ma per l'uomo medievale l'aver dentro l'avere addosso un elemento appartenuto al santo un'immagine del santo era un meccanismo che chiaramente nasceva dalla dalla paura proprio questo apre chiaramente al discorso delle immagini nel senso che il medioevo è l'epoca delle immagini le immagini veicolavano la sacralità la loro importanza è capitale sono gestite dalla chiesa proprio per dirigere il culto non tanto i testi in latino che sarebbero stati ignorati dal 95% della popolazione quanto l'immagine che è estremamente più impattante raccoglie più fedeli l'immagine è interpretabile anche da un'analfabeta nei suoi nella sua concettualità e nella sua simbologia primaria ed era quello che interessava alla chiesa per tenere sotto il controllo la fede infatti noi parliamo di medioevo in cui comunque nascono le letterature nascono le lingue nascono i primi testi ageografici ossia dei testi sulla vita del santo che il fedele poteva leggere se poteva avere accesso alla lingua pochissimi o poteva sentir recitato sentir letto da una figura religiosa che gli passava quella concettualità gli passava quella storia commentandola ed interpretandola e molto spesso lo faceva in un ambiente ricco di immagini che si imprimevano nella mentalità popolare immagini vuol dire testo visivo immagine vuol dire affresco vuol dire pittura vuol dire scultura o vuol dire architettura nella sua globalità la facciata di una cattedrale medievale la facciata di una cattedrale romanica o gotica è un testo che manda dei messaggi al fedele anche se questo fedele è analfabeta ed ignorante ma dalla strutturazione delle immagini forma la sua mentalità che è una mentalità ovviamente di paura è rispondente a questa concettualità dell'alto basso che abbiamo detto e illustrato cercato di illustrare precedentemente la chiesa fa leva sulle immagini per la sua propaganda le immagini ragazzi diventano assolutamente fondamentali pensate che la chiesa arrivò addirittura a condannare già fin nei suoi albori nei primi decenni nei primi secoli del suo sviluppo questo culto unicamente delle immagini perché arrivò a distogliere dalla dimensione spirituale un culto che era diventato eccessivamente materiale e distoglieva da quella che era la spiritualità pura si venerava l'immagine e non il santo pensate quanto la mentalità medievale arrivò a distorcere un elemento che a lei doveva essere funzionale addirittura certi tipi di culti prevedevano che una parte delle immagini venisse grattata e posta in un bicchiere e addirittura bevuta proprio per questo bisogno di avere dentro una parte di quella di quell'immagine mi raccomando ragazzi decorazione delle chiese a livello di storia dell'arte la chiesa è chiaramente la cattedrale è il luogo perfetto per il medioevo perché il fedele anche solo camminando tra le navate era assediato da queste immagini che anche lo ripetisco per la centesima volta anche un livello di analfabetismo potentissimo poteva comunque fare interpretare nell'ottica di questo dualismo tipicamente medievale la stessa commedia di Dante è stata definita una cattedrale di simboli una foresta di simboli nella quale il fedele si orientava perfettamente anche perché l'uomo medievale non concepiva alcuna differenza fra il reale il basso e la terra e il soprannaturale l'alto e il paradiso ritorna la nostra concettualità sempre dell'alto e vasto facevano parte tutti e due della medesima del medesimo nucleo del medesimo appunto mondo come vi dicevo prima lo ribadisco questi due mondi alto e basso erano collegati dal simbolo dall'allegoria da a livello letterario e di scrittura che poi passano essendo lette alla mentalità medievale e a tutti infatti nella letteratura medievale noi abbiamo un campionario straordinario di tutte le figure del significato del trasferimento del significato la metafora la similitudine l'allegoria il paragone il contrasto il confronto che portavano appunto a dare in un'immagine o in una concettualità molto semplice un significato infinitamente infinitamente profondo tema tipico della letteratura medievale è anche il viaggio nell'aldilà un viaggio che prevede delle interpretazioni dei simboli perché se ci può essere un viaggio nell'aldilà vuol dire che il regno ultraterreno fa comunque parte del cosmo dell'ordine mentale dell'uomo medioevali e intermediari prediletti fra questi due mondi erano gli angeli la parola angelo ha in sé è la radice proprio dell'annuncio una delle scene più famose è ovviamente l'annunciazione di un angelo annunciante che porta un messaggio che porta una informazione e l'uomo medievale con l'aiuto e a volte la interpretazione della chiesa veniva aiutato o direzionato o indotto alla interpretazione di questi simboli della realtà una realtà che era stata plasmata da Dio quindi era in un certo qual modo perfetta nonostante la dimensione terrena dell'uomo fosse enormemente corruttibile il mondo o meglio l'universo tutto che andava in un unicum versum universo un verso una direzione era formato da delle sfere concentriche la più erevata era ovviamente quella di Dio che dava il moto il movimento l'amor che muove il sole l'altre stelle di Dante è un verso straordinario che traduce a pieno questa concettualità Dio che dava il movimento a tutto l'universo in queste sfere concentriche il cerchio era chiaramente la figura geometrica prediletta perché rappresentava appunto la perfezione il moto il movimento a questi corpi celesti di cui il punto più basso era ovviamente la terra peccaminosa immobile e sostanzialmente imperfetta quindi continua nel nostro discorso ad essere confermata sempre con più potenza la concettualità di questa visione dualistica l'uomo medievale in fondo ragazzi viveva immerso nella natura una natura pericolosa che poteva schiacciarlo e poteva ucciderlo in qualunque momento l'uomo medievale è assolutamente senza difese nel mondo da questo nasce di nuovo la sua angoscia e la sua paura le calamità naturali volevano dire morte certa ed erano sempre interpretate in un'ottica religiosa in un'ottica di punizione peste epidemie carestie terremoti alluvioni calamità naturali nel loro complesso avevano questa interpretazione parlo di natura vi cito semplicemente la simbologia della foresta per l'uomo medievale della selva oscura fondamentale nell'opera che più rappresenta la letteratura del periodo che è ovviamente la commedia dantesca la foresta come luogo di perdizione come luogo di pericolo come luogo di peccato come luogo in cui se si sbarrisce la retta via è finita non ci si può quasi mai più redimere a meno di non trovare una guida di non avere una forza spirituale talmente forte da potersi rimettere sulla retta via dovendosi redimere dai peccati non è che non si potesse rimediare i peccati se no non esisterebbero i percorsi e i pellegrinaggi di redenzione ma cadere nel peccato per l'uomo medievale è estremamente pericoloso la percezione del non ritorno del peccato da parte di un uomo medievale risponde sempre alla sua mentalità vedete guardate come cambia la simbologia della foresta dal paganesimo al cristianesimo per esempio la foresta connotata negativamente nel cristianesimo era un luogo per i pagani assolutamente positivo di elevazione di contatto con le forze della natura di purezza e soprattutto di sacralità pensiamo alla radura dei druidi pensiamo alle varie divinità della foresta che ogni cultura pagana aveva quindi vedete come cambiano lo stesso elemento percepito da due mentalità diverse porta a stravolgerne o a cambiarne quantomeno in relazione all'epoca il suo significato nella foresta ci sono animali nella foresta ci sono bestie nella foresta ci sono piante e ognuno di questi elementi era interpretato a livello simbolico pensiamo sempre al nostro esordio della commedia dantesca che traduce perfettualmente a livello di animali questa situazione e nascono delle pubblicazioni i bestiari e le raccolte enciclopediche sul significato dei fiori in cui è analizzata la simbologia di un determinato animale la simbologia e le proprietà di una particolare erba o gemma o pietra la letteratura medievale è ricchissima di questi testi che improntati tutti tutti quanti sulla simbologia un elemento concreto animale pianta pietra gemma è sempre interpretato in un'ottica che va oltre nel regno immateriale simbolico e spirituale terminiamo un ragionamento sulla mentalità sul tempo nel senso che abbiamo visto un cosmo unico alto e basso il tempo era parte dell'universo nella quale cielo e terra erano uniti abbiamo un tempo terreno un tempo mortale che era concepito come un frammento un piccolissimo granello di sabbia all'interno del tempo eterno che attende nella vita spirituale un minimo granello di sabbia tra la creazione e il giudizio universale e questo è il tempo terreno che era fatto percepire in questa maniera dalle autorità che si occupavano di informare i fedeli durante una messa durante una cerimonia religiosa durante una predicazione o una funzione e il tempo storico sostanzialmente non aveva nulla di di cronologico nel senso che il tempo mentale dell'uomo medievale era il tempo di cui vi ho detto adesso il tempo storico non non aveva nulla nemmeno di logico e di cronologico pensiamo mi ero appuntato una particolarità ossia i primi crociati la concezione per la quale i primi crociati si recarono in terra santa per punire i traditori di Cristo le crociate sono avvenute secoli dopo la morte di Cristo i traditori di Cristo erano a lui contemporanei quindi vedete come scusate il termine la percezione del tempo cronologico è completamente sballata ma se a un uomo medievale tu proponevi quello proponevi questa interpretazione la accettava perché veniva dall'autorità veniva dall'autorità religiosa è come se io ragazzi vi dicessi una cosa del genere una cosa tipo che Cristoforo Colombo durante la scoperta dell'America ha incontrato o Napoleone o Giulio Cesare non c'era nessun aggancio dal punto di vista cronologico per la percezione del tempo per la quale comunque avevamo meridiane crisidre candele ma la giornata era diretta sostanzialmente dalle preghiere e da una scansione di alba e tramonto e di luce luce bue le funzioni liturgiche appunto scandivano la giornata oltre ovviamente alla concezione del tempo agricolo e alla ciclicità delle stagioni da cui dipendeva la sopravvivenza delle popolazioni nel senso l'alternarsi annuale delle stagioni era un elemento che inevitabilmente regolava la vita di tutti anche qui nella dimensione appunto di quando coltivare quando una terra non dava frutti quando una terra il momento in cui un frutto o una proprietà della terra poteva essere sfruttata era tutta una dimensione di tempo agricolo ecco ragazzi guardate vi lascio con un ultimo concetto perché secondo me per chiudere questo nostro ragionamento è fondamentale la simbologia del libro come mentalmente era concepito il libro facciamo una piccola differenza fra il medioevo e il rinascimento noi troveremo e sappiamo già dai nostri studi passati che i luoghi della cultura nel medioevo erano principalmente i monasteri erano principalmente delle cattedrali o delle sedi religiose le abazie ad esempio che avevano un settore un luogo adibito alla cultura propriamente alla copiatura dei testi antichi che era lo scriptorium l'architettura della l'architettura dell'abbazia del monastero era regolata in base al fatto che lo scriptorium dovesse essere nel luogo che riceveva più luce per la maggior parte del tempo proprio perché in questo scriptorium buio illuminato dalla luce delle candele c'era questo esercito silente di monaci che copiavano costantemente i testi antichi e questi libri però assolutamente non venivano divulgati venivano gelosamente custoditi perché il libro era percepito anche come un oggetto a tratti pericoloso soprattutto i testi greco-romani pagani che dovevano seguire un processo di adattamento reinterpretazione e rielaborazione quindi relativamente alla simbologia del libro il medioevo è un periodo che il libro lo tiene protetto lo tiene chiuso lo tiene sotto chiave alcuni libri avevano il lucchetto doveva essere chiuso e costodito in una biblioteca alla quale solo pochi potevano avere accesso e questa è la simbologia del libro e la simbologia della mentalità e la cultura nel suo complesso nel rinascimento così teniamo una ondata circolare visto che avevamo iniziato il nostro ragionamento con la definizione di medioevo data dagli uomini del rinascimento nell'umanesimo e nel rinascimento cambia completamente questa concettualità del libro proprio perché il libro viene aperto un libro è uno strumento per migliorare uno strumento per apprendere per diffondere quella cultura che il medioevo aveva voluto tenere ben chiusa e ben protetta il libro era più un oggetto quasi nel medioevo nel rinascimento inizia ad avere la sua funzione di oggetto sì ovviamente ma oggetto volto all'apprendimento alla diffusione della cultura biblioteca monastica chiusa protetta sotto chiave nell'umanesimo e nel rinascimento abbiamo le prime biblioteche pubbliche in cui il libro si apre la mentalità si apre la conoscenza si diffonde e non è un caso che questa mentalità abbia portato alla scoperta dell'America il trionfo dell'apertura il trionfo delle capacità dell'uomo che mentalmente è in grado di scoprire nuovi territori nuove aree del mondo quindi chiuderei proprio con questo concetto la simbologia del libro fra umanesimo fra medioevo e rinascimento ci permette di comprendere perfettamente o quantomeno mettere le basi per comprendere le due diverse mentalità di queste epoche straordinarie ma per concettualità e mentalità appunto opposte va bene ragazzi direi che con questa con questa presentazione con questa introduzione abbiamo cercato di mettere in luce molti argomenti e molte dinamiche legate al mondo e alla mentalità medievale quindi mi raccomando ripassiamole e teniamole ben fisse perché ci possono venire utili non solo nello studio nella storia ma magari anche in altre discipline il cui il medioevo chiaramente si è espresso in maniera eccezionale in ognuna di esse grazie davvero ragazzi l'augurio di una buona giornata buono studio e buon lavoro a presto grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti